Dopo oltre quattro anni di attesa riaprirà domani l'aula consigliare del comune di Camerota. La sala fu distrutta da un incendio. I fatti risalgono a maggio del 2013. Le fiamme divampate dalla parte bassa della casa comunale minacciarono di distruggere l'intero edificio di tre piani. Soltanto l'immediato intervento delle persone che si trovavano all'interno della sede municipale e di coloro che dall'esterno si accorsero del fumo che fu riusciva dal piano terra si riuscì ad evitare il peggio. Sul posto arrivarono i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino che completarono le operazioni di spegnimento del rugo. L'incendio quindi non investì altre zone della struttura e soprattutto non interessò persone ed addetti comunali. Sul caso furono subito aperte le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione della Compagnia di Sapri per arrivare alle origini del rugo su cui però è rimasto il mistero. Sin dal primo momento non fu esclusa l'origine dolosa. Dopo il rugo gli uffici comunali rimasero chiusi per circa una settimana. L'aula consigliare invece è rimasta off-limits negli ultimi quattro anni. Soltanto con l'insediamento della neoamministrazione guidata dal sindaco Mario Scarpitta la struttura è stata oggetto di interventi di recupero. E domani finalmente il Consiglio Comunale è stato riconvocato presso la Casa Comunale di Piazza San Vincenzo a Camerota Capoluogo e i lavori del Consiglio torneranno nella vecchia aula consigliare. Il Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria, discuterà fra le altre cose della surroga del consigliere Giancarlo Saggiomo. Quest'ultimo è stato nella precedente amministrazione comunale presidente della società partecipata alla Calanca SRL, un incarico dal quale si è dimenso dopo la sua candidatura alle recenti elezioni amministrative. Il Consiglio Comunale aveva accolto la tesi della ineleggibilità e al suo posto entrerà Sara Infantini prima dei non eletti.